Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, chiude il tratto compreso tra le uscite Salabagnano e Fratte in direzione Fratte. Sulla strada statale 163 a Malfitana per una frana e ridotta la carreggiata tra Cetara e Vietri sul mare in entrambe le direzioni. A Napoli per caduta a Calcinacci è chiusa la galleria laziale. Per questo motivo tutte le linee in transito nella zona deviano il proprio percorso. Dalla redazione Valeria Baldanza.